Secondo il bollettino settimanale diramato dal Dipartimento per l'attività sanitaria della Sicilia, nella settimana dal 17 al 23 ottobre c'è stato un aumento delle nuove infezioni. I nuovi casi infatti sono 9.690, pari al 5,28%, con un'incidenza di 191 casi su 100.000 abitanti. Le province con la maggiore incidenza di positività sono quelle di Messina, di Trapani e di Siracusa. La fascia d'età maggiormente a rischio risulta sempre quella complessa tra i 60 e gli 89 anni, mentre dati relativi alla campagna vaccinale, che fanno riferimento alla settimana dal 19 al 25 ottobre, ci dicono che hanno completato il ciclo primario di vaccinazione il 21,79% dei bambini, mentre la percentuale degli over 12 che ha completato il ciclo primario è dell'89,48%. Così vaccinati con la terza dose sono il 72,34% degli aventi diritto. Si registra inoltre una diminuzione delle nuove ospedalizzazioni, di cui oltre al 50% dei pazienti ricoverati non risultano vaccinati. Dal 13 luglio è stata autorizzata la quarta dose per gli over 60 e per gli over 12 con elevata fragilità. Il Ministero della Salute, dal 7 settembre, ha inoltre autorizzato la somministrazione delle dose booster gli over 60 alle persone di elevata fragilità e alle fasce di età over 12 in attesa della terza dose, includendo anche operatori sanitari, operatori e ospiti alle strutture residenziali per anziani e donne in gravidanza. In Sicilia, infine, dal 1 marzo sono state effettuate 148.690 somministrazioni di quarta dose, di cui 138.649 agli over 60.